Buonasera, buonasera e benvenuti nel salotto delle celebrità. Dove si svolgono le audizioni nazionali dirette di casting ufficiali legate a Sanremo New Talent, il Singer Contest numero uno in Italia. Questa sera coloro che si esibiranno qui poi potranno prendere parte alle finali nazionali di settembre all'altro mondo studios. Come sempre una giuria di grande qualità la nostra con in testa il maestro d'orchestra del festival di Sanremo, maestro Vince Tempera al quale dedicherei un bellissimo applauso. E ancora al suo fianco il produttore tv, nonché patron del concorso, Davis Paganelli. Ma prende parte alle votazioni anche il coreografo regista di fama internazionale Alex Leardini. Vi ricordo che Sanremo New Talent è il vero, Sanremo New Talent è l'originale, è il più imitato e permette poi al vincitore di conquistare un premio in notorietà, in visibilità pari a 20.000 euro. Ma non solo, ci sono anche altri premi in palio come il premio Kids, il premio Silver, quello Giovani, il premio Platinum, premio Junior, premio TV e premio Cantautori. Questa sera ad accompagnare gli artisti c'è anche Miss Principessa d'Europa 2023, Aymara Gavillucci. Però ora è il momento di dare spazio a coloro che si esibiranno, ma prima voglio vedere cosa stanno facendo nel backstage, anzi voglio chiedere loro, da dove nasce la tua passione per la musica? La mia passione per la musica nasce da quando ero piccola, infatti mi piaceva molto cantare e soprattutto anche adesso. Lei è giovanissima, è il momento di Elif, Elena, Kalin. Buonasera. Ciao, buonasera. Chi ci fa ascoltare Elif? Se piovesse il tuo nome di Elisa. Se piovesse il tuo nome di Elisa. Non ci siamo mai dedicati, dedicati le, le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio e silenzio. La città è piena di fontane, ma non spesce me la sete, sarà la distrazione, sarà, 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 che sempre sta rimbocca. La città è piena di negozi, ma poi chiudono sempre e rimango solo io a dare il resto al mondo. Se in mezzo alle strade, o nella confusione, che ovesse il tuo nome, io ho una lettera per volte a fuori, ve. Se in mezzo a mille persone, sezione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa mia. Non ci siamo mai vesti per davvero e non ci siamo mai presi per davvero in giro, neanche per sbaglio, neanche per sbaglio e silenzio. La città è piena di fare il resto, la città è piena di lavoro, neanche per sbaglio e rimbocca. Se in mezzo alle strade, o nella confusione, piovesse il tuo nome, io ho una lettera per volte a fuori, ve. Se in mezzo a mille persone, sezione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa mia. Ma senza te, chi sono io? Un mucchio di spese impilate, un libro in francese che poi non lo so neanche, neanche bene io. Se in mezzo alle strade, o nella confusione, piovesse il tuo nome, io ho una lettera per volte a fuori, ve. Se in mezzo a mille persone, sezione dopo stazione, se non scendo quella giusta è colpa. Ehi tu, dico a te, sei un cantante, interprete o un cantautore di qualsiasi età? Ti stiamo cercando. Audizione online è gratuita e immediata. La prossima star potresti essere tu. Candidarsi è semplice. www.sarremonyutalent.com sezione dopo stazione, pensaresi sui. Ricordare e richesti studenti. Il nostro corso spese un'ercizio scendo.